E' una fila da Torenzi in movimento, cercando un balle, e Teghera lo toglie da porta! Prima che la rosa fa la colpe per me! Attenzione a Torenzi che attacca, sul secondo palo c'è il parolo! Torenzi prova a mette il ballo, con un destro a gettare il zaccamento! Buono! Gioco pericoloso sulla commerciale, sia in un caso possibile! Pisciglio rientra sempre sul destra e contro la persona che la prendono! Altra occasione per noi! E' ancora l'avventura che descende, arriva a Torenzi, fatto il teso! E' Sergio Ramos, quasi se lo fa! Perché stessi? E' ancora lì! Oh sì! Giorgio! Ficco! Giorgio! Giorgio! 1-0! 1-0! 2-0! 1-0! 1-0! 1-0! giocato ce l'ha, e Stendiera la mette in calcio l'antica no, c'è l'ho più colpa, non deve essere un po' fuori balone, per lei, con un tacco a lei e provoce a Miquel, 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 Miquel ancora Miquel Miquel, 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 Miquel Miquel, 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 Miquel Miquel, 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 Miquel Miquel, Miquel le sbagliamano, sta un reggisito da Fabregas dentro per Iniesta con il tacco e poi se la metta sul fondo primavera conclusione della Spagna occhio a Lucas Vásquez che ha dato rivalità alla Spagna prova 1 contro 1, la mette all'indietro Iniesta grande abba fa passare il pallone poi in Puffo poi la pallone per insieme gli lansi quando contro 1 bisogna da calcio PLEANZI insieme, insieme, insieme a Antonio De Gea ancora Pazzagli prova a saltare all'indietro il pallone finché... Buffon! Buffon! Insigne che cambia gioco e lavaglio forse estremamente per Dagnani Dagnani, dai di rigore Dagnani dentro, palla arrivata, grazie! Palla! Giaccio che è partita Iniziamo a partita! Prova solo! Comenziamo! Cominciamo! Buon appetito, amici! Siamo a partita!